Bentrovati nel mio canale. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca The Family. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella seconda stagione. La serie turca The Family continua a conquistare il pubblico con episodi ricchi di dramma e colpi di scena. Le ultime puntate promettono momenti di altissima tensione e rivelazioni sconvolgenti che potrebbero cambiare per sempre le sorti della famiglia Soikan. Aslan e il salvataggio di Leila. Il nostro protagonista, Aslan, è finalmente riuscito a scoprire la verità sulla prigionia di sua sorella Leila. Si è venuto a sapere che Serap è la vera colpevole. Ha pagato Melek per farsi del male e incolpare Leila. Il motivo? La figlia di Ilias ha un piano di vendetta e vuole distruggere tutti i componenti della famiglia Soikan. La lotta di Melek e le speranze di Leila. Melek sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, e Leila spera che possa riprendersi in modo da raccontare tutta la verità e scagionarla. Ma Serap non intende lasciare nulla al caso. Decide di recarsi in ospedale per mettere fine alla vita di Melek, evitando così che Leila possa mai uscire di prigione. Fortunatamente, Cian arriva appena in tempo per fermare sua moglie da un omicidio imminente. Il piano di Aslan. Aslan tenta di ricattare Serap per farla finire in prigione, ma scopre che la donna tiene in ostaggio la figlia e la madre di Melek, con l'intenzione di spedirle in Bulgaria. Grazie alla sua determinazione, Aslan riesce a rintracciarle e a mettere nonna e nipote sotto la sua protezione. L'abbraccio tanto atteso, Melek riesce a salvarsi grazie all'assistenza costante di Aslan, e può finalmente riabbracciare la sua bambina. Aslan promette a Melek che si prenderà cura di sua madre e di sua figlia, in cambio della sua testimonianza al processo per liberare Leila. Leila. Il ritorno a casa. Dopo giorni di angoscia, Leila è finalmente libera, e può tornare a casa per riabbracciare i suoi figli. L'intervento coraggioso di Aslan e il sacrificio di Melek sono stati determinanti per riportare giustizia e serenità nella famiglia Soikan. Le ultime puntate di The Family, sono state un turbinio di emozioni, e il futuro promette ancora più avventure e rivelazioni. Non ci resta che continuare a seguire con trepidazione l'evolversi delle vicende della famiglia più tormentata della tv turca.